Dai che vi faccio un video, vi faccio vedere una cosa. Oggi è domenica, purtroppo domenica è giorno peggiore perché oltre ai turisti normali si aggiungono i locali che vengono a questo posto. La maggior parte dei locali di Peschici e di Vinco del Gargano vengono qua. Adesso vi faccio vedere. Allora, questa è la spiaggia, in questo momento è molto popolata, domani sarà un po' meglio. Il mare oggi è un po' mosso. Allora, intorno non ci sono strutture, solamente queste. La spiaggia non è pulitissima però diciamo che rispetto agli altri anni è un po' meglio. La tengono un pochino più pulita, molto spesso anche grazie a qualche turista di buonanima che si mette a raccogliere tutta la plastica che lasciano in giro gli incivili. La giornata non è male, ieri ha piovuto, adesso ho fatto una passeggiata di là, ci sono le spiagge attrezzate, dei campeggi e io preferisco venire qua perché insomma tra la musica idiota e i bambinelli che rompono i coglioni e la gente tutta presa dagli smartphone e queste stronzate. vengo qua spesso e niente, il mare è un po' mosso, c'è un po' di aria però si sta benissimo. Niente, come al solito io non mi sgancio dalle mie riflessioni, cammino, vedo la maggior parte della gente attaccata di smartphone, anche quelli che camminano, anche quelli che camminano sul lungo il bagnasciuga, diciamo ce ne sono veramente tante con il cellulare in mano o che parlano al telefono e la domanda che mi pongo è ma ce l'hai in mano tutto l'anno, non ti sei rotto il cazzo, almeno queste due settimane, quello che è, i dieci giorni, le due, le tre settimane per chi può, non hai pieni coglioni, adesso qualcuno mi potrebbe dire, lo stai usando anche te, ma lo sto usando perché voglio fare questo video e dopo vedrò se caricarlo o no. Sono esattamente in mezzo, sono sul, in una parte dove si bagna fino al ginocchio diciamo, e vi faccio vedere. che ero troppo sotto la costa, allora, là in fondo c'è il Rodi Garganico, non so se si vede, comunque, vediamo, vediamo, quella, quell'agglomerato, nel fondo, però oggi, dietro, questo promontorio, qualche chilometro c'è a Peschici. qui è una parte molto selvaggia, non ci sono spiagge qua dietro, tra qua e Peschici non ci sono spiagge, sono rocce a strapiomo, però ci sono dei posti, se si va con un canotto o un pedalò, sono molto carini, molto carini, e niente. Adesso faccio la mia passeggiata indietro, ripasso davanti alle spiagge attrezzate, e vado a procurare qualcosa per il pranzo, sarà un pranzo leggero, qualcosa di light. Allora, se caricherò questo video, insomma, un saluto a tutti.